Da dove avevamo finito stiamo ripartendo, quindi ci siamo fermate con la sconfitta contro la Juventus e adesso riprendiamo con una partita importantissima, da dentro fuori, come hai detto, sempre con la Juve. Sicuramente abbiamo fatto tesoro dei nostri errori, abbiamo cercato ovviamente di lavorarci, di migliorare le cose che non hanno funzionato e allo stesso tempo però sappiamo che molto spesso nello sport, nel calcio, una partita secca può essere anche molto particolare, quindi ci proveremo. L'importante è dare il massimo, riuscire a entrare in campo e fare il nostro dovere. E poi qualunque risultato non ci si arrende mai. È una sfida che ci ha insegnato tanto, è una sfida che ci ha visto incontrare una squadra, l'avevo detto, una squadra molto forte, la squadra più forte e ovviamente anche quella di domani sarà una partita che ci insegnerà tantissimo. Noi sicuramente siamo meno esperte dal punto di vista di affrontare competizioni di questo tipo, però se non cominciamo non lo saremo nemmeno mai. Quindi l'affrontiamo con la consapevolezza e il grandissimo rispetto, ma sicuramente non dobbiamo avere paura di nessuno.